Preparati a saltare. La Vicaroc sta per tornare. La Vicaroc sta per tornare. Il 30 e il 31 agosto presso il Parco Comunale Antonio Miante di Via Grande Catania con ingresso totalmente gratuito sul Parco, bande siciliane e giuria formata da ospiti nazionali. Per info e contatti visita il sito lavicaroc.it